Stiamo preparando le pizze per farci vedere la mozzarella che è messa sopra una pizza E quale stiamo utilizzando? Il treccino I nodini che abbiamo visto precedentemente in preparazione Sì, perfetto, abbiamo assistito a tutta la preparazione La preparazione è stata messa poi in frigo, raffreddata Prima è passata in salamoria, dopodiché è uscita e è passata in vino Quanto è importante l'utilizzo di prodotti proprio del territorio Soprattutto con queste lavorazioni che rispettano la natura del prodotto? Diciamo che è enorme la produzione nostra perché la produzione nostra è artigianale Non è industriale, questo si vede dalla uscita del latte che c'è alla mozzarella Questa è un pochettino più asciutta ma si nota Sì, sì, perfettamente Abbastanza bene Le esfilature che c'è qua, già si vede che è una mozzarella 100% fatta di latte Proprio veramente? Ecco Quindi praticamente è segreto quello Prodotti di buona qualità Praticamente una mozzarella artigianale e soprattutto che è una mozzarella di latte pura Ok, grazie, vedremo il risultato finale Grazie a tutti Grazie a tutti